Energie pulite ancora in primo piano in Puglia. Nel primo semestre del 2011, infatti, la Regione ha dato l'avvio ad impianti che necessitano di autorizzazione unica per 727,4 MW, facendo quindi registrare un 46% in più rispetto ai 497 del secondo semestre dello scorso anno. Nella distribuzione territoriale delle autorizzazioni è la provincia di Foggia a detenere il primato assoluto con il 76% della potenza autorizzata. Le società che richiedono le autorizzazioni hanno nel 57% dei casi sede legale fuori dalla Puglia. Sono alcuni dei dati contenuti nello studio Promem Sud-Est presentati in Fiera dell'Evante in occasione della quinta giornata dell'energia pulita. Un appuntamento importante per il presidente della Promem Sud-Est, Mario Rubino, che ha spiegato quanto fondamentale sia il confronto non solo fra le istituzioni ma anche con il mondo bancario, imprenditoriale e della ricerca. Noi abbiamo un trend in crescita notevole per gli impianti, ha detto durante il suo intervento l'assessora regionale allo sviluppo, Loredana Capone. In Puglia, ha continuato, abbiamo 1729 MW di impianti e questo fa sì che la nostra regione detenga il primato nel fotovoltaico, seguita dalla Lombardia. Nell'eolico invece la Puglia è seconda alla Sicilia, indispensabile infine per la Capone intervenire sugli incentivi.